Ehi baby, si, però quando gioco mi tum, mi antenne, la palla, la direzione, la trovo grazie alle mie antenne, con tutti quei capelli c'erano 5.000 ciappette, li metto, li metto, no, cerco ultimamente, sono scesa, ne metto solo tipo 2, 2 capello per tirato con oli, coda lì e poi dopo il ricciolino parte, prima che scai.